Va al Team Sky, composto da Leonardo Basso, Jonathan Dibben, Christopher Lawless, Pavel Sibakov, Diego Rosa e Luke Rowe, la seconda semitappa della giornata che ha aperto l'edizione 2018 della settimana internazionale Coppie e Bartali, una cronosquadra di 13,3 km da Gatteo Mare a Gatteo. La formazione britannica ha fatto registrare il miglior tempo, pari a 14,44, precedendo di 10 secondi la CCC Sprandi Polkovice e la Mitchelton Scott. La maglia di leader della gara a tappe, organizzata dal gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici, resta però all'olandese classe 97 Pascal Nkoren della Lotto NL Jungle. La maglia di leader della gara a tappe, transa di terra che riguarda i arche che l'amica